Presidente, è un caso molto sentito in Italia di Stefano Pucchi e questi giorni di novità ce ne sono state e anche un intervento ad alto livello tra l'arbre dei carabinieri. Ci vorrei dare un commento su questo? Il mio commento è che vi posso anticipare che il governo, parlo a nome del governo, è ben favorevole alla costituzione di parte civile in giudizio dell'amministrazione della difesa. Per quanto riguarda il governo, già preventivamente anticipo la disponibilità a che l'amministrazione della difesa si costituisca parte civile nel processo.